Ecco i nostri ragazzi esordienti stanno eseguendo un esercizio specifico, la scalata della collina. Ecco che discende il gruppo, ecco vediamo Pitbull, Emanuele, Alessio, Michele ha fatto la scorciatoria, Karan sta tornando indietro, ecco c'è pure Nicolò. Stanno scendendo i gradini Guido e Bartolo, ha stata parte Michele che è sempre la scorciatoria fa, oh fallo cadere, forza, forza, mantenete un ritmo su, forza ragazzi, un ritmo va, forza ragazzi. Forza, ecco una bella corsa, bella, uno scatto bruciante, so. Forza Karan, ecco pure Gabriele, Cristian, Nicolò. Ecco, ecco discende l'altro gruppo, Bartolo, Guido, Emanuele, Pitbull e Alessio. Adesso tocca al turno all'altro gruppetto di ragazzi, c'è Alessandro e Enrico che aprono da battistrada, lo segue Luca, Filippo, Lorenzino. Mentre i ragazzi che prima hanno fatto la scalata, adesso stanno eseguendo gli esercizi, sicuramente gli esercizi di possesso di palla. Ecco, ritorniamo ancora alla ripresa, la collina, stanno riscendendo. Ecco, parte l'altro gruppo con Gianluca, Teidi, Nicola, Lorenzo, Lele, Alessandro, Lorenzino, Enrico, Emanuele. Con le casacche gialle, giallo-blu, ecco, da battistrada Gianluca, lo segue a ruota Teidi, poi Lele, Nicola, c'è a favore dei gradini, Lorenzo ha fatto la scorciatoria, ecco riparte il gruppo. Ecco, riuscente Filippo, Alessandro, Enrico, Luca e Lorenzino. Ecco, mentre qui possesso palla in due gruppi, sempre mister Gabriele che dà gli ordini. Ecco, è riuscito, ecco riparte i gemelli del gol. Ecco, Lele e Nicola, vediamo se Nicola lo supera. Ecco, riparte pure Lorenzo, Alessandro, Enrico, Luca, Filippo e Lorenzino. Ecco, qua invece eserciti controllo di palla. Qui abbiamo Cristian, Michele, Lorenzo con i berti, Guido, Gabriele, in mezzo da Torello c'è Pitbull. Ecco, riparte un'altra volta, tutti con scatti. Siamo in movimento, non restiamo bene, vai in mezzo, vai in laterale. Bravo, Guido, chi sta in mezzo deve andare a cercare questa palla.